Gesture Mode Osmo Mobile 3 supporta il riconoscimento dei gesti attraverso la Gesture Mode. Si tratta di una tecnologia presente nell'app DJI Mimo che riconosce le due o le cinque dita della mano per scattare una foto, avviare una registrazione o abilitare Active Track senza toccare alcun tasto. E' una funzione davvero comoda e reattiva e per avviarla ci basterà entrare all'interno dell'applicazione ed abilitare la funzione tramite l'impostazione presente nella parte destra sotto il pulsante di scatto. Una volta cliccato il tasto sarà abilitata la funzione e potremo indicare due o cinque dita per farci riconoscere. Funzione particolare per tutte le situazioni in cui non abbiamo tra le mani lo stabilizzatore o vogliamo farci seguire da lontano tramite gesti. In descrizione troverete tutti gli articoli sul DJI Osmo Mobile 3 e i link con i prezzi sempre aggiornati per acquistarlo nei vari store. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti.